bentornati su non aprite questo blog quel gonz e oggi sono qua per fare un aggiornamento della collezione particolarissima perché sono dei film che cg entertainment mi ha gentilmente inviato ci sono alcune cose nuove alcune cose vecchie che ho visto alcune cose vecchie che non ho visto vediamoli tutti insieme vi dirò qualcosina su ogni film e basta che cazzo volete di più vi ricordo che sul sito di cg entertainment trovate tutti questi film lascio il link qui sotto per acquistare dal loro sito e vi ricordo che è uscito anche il canale digital di cg entertainment devo ancora informarmi meglio su come funziona lo trovate come app penso sui televisori samsung e probabilmente poi piano piano anche su altri dispositivi andiamo a vedere i film allora primo film una novità nel catalogo di cg entertainment 47 metri uncage blu ray questo è un film che ho recensito sul sito di non aprite questo blog andate a leggervi la recensione la particolarità va bene intanto è il sequel di 47 metri down quello nella gabbia insomma per intenderci qua non c'è più la gabbia c'è un altro contesto di diciamo costrizione non vi voglio spoilerare la trama ci sono delle ragazze che come al solito faranno qualcosa che non devono fare tra queste protagoniste c'è anche la figlia di jamie fox e la figlia di sylvester stallone e il film non è sicuramente un capolavoro però io l'ho recensito positivamente perché l'ho trovato abbastanza divertente ci sono delle scene che perlomeno nel mio caso mi hanno generato un po di ansia perché tutte le scene dove dei sub rimangono bloccati in qualche cunicolo mi generano sempre una fortissima ansia quindi una cosa molto soggettiva è molto più action del primo film non aspettatevi la stessa ricetta del primo film anche se comunque anche qua ci sono squali eccetera finale molto 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 rocambolesco un buon film per passare una serata in allegria divertimento scansonata diciamo senza troppe pretese sono un po messi a caso avrei dovuto organizzarli fa niente federico zampaglione con scedo questo è in giro da un po è un film che volevo vedere da tempo e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso è veramente un buon film addirittura qua si parla di rinascita dell'horror italiano da parte di notturno mi sembrano parole spese sapientemente perché comunque effettivamente questo è un film fatto veramente bene in particolar modo mi hanno colpito le scene action fatte da dio la recitazione non è tra non è la cosa tra le migliori insomma il villain è veramente fenomenale colpi di scena è fatto veramente bene federico zampaglione sapete che è il cantante di tiro mancino ha fatto anche recentemente un cortometraggio che si chiama bianca che di cui trovate la recensione su non apriate questo blog.it è un cortometraggio fatto in periodo lockdown quello peso dove non si poteva proprio mettere il naso fuori di casa e devo dire che per i mezzi che aveva mi ha divertito molto zampaglione ha molto talento speriamo che possa tornare a fare anche film oltre che musica film horror ovviamente grandissimo questo acquisto che consiglio assolutamente soprattutto se si vuole sostenere il cinema horror di genere italiano poi questo film l'ho visto tipo ero un bambino probabilmente infatti ricordo poco e niente però è un film che l'immaginario di questo film mi ha sempre spaventato molto segue il filone grossi animali cattivi del mondo acquatico l'orca assassina ci tenevo ad averlo praticamente c'è quest'orca maschio che gli uccidono l'orca femmina e gli girano i coglioni e poi su cazzi per tutti l'ho visto nel passato ma non mi ricordo assolutamente nulla quindi lo riguarderò l'orca assassina dai famoso l'orca assassina insomma lo conoscono tutti versione integrale il terrore appena sotto la superficie del mare madonna le orche mi hanno sempre fatto una paura molto più degli squali adesso no adesso diciamo che c'è la classifica è un po tutto ciò che nuota nel mare mi fa paura nello stesso modo anche una tartaruga poi passiamo a un film con uno dei miei attori preferiti che è michael j fox perché comunque sono stra affezionato alla saga di ritorno al futuro e il film è spesi nel tempo di peter jackson non me lo ricordo più veramente anche se questo qua è più recente parla comunque di anni e anni fa l'intera making of del film interessante e lo storyboard lo rivedrò io sono un grandissimo fan di bettaste splatter peter jackson sempre stato un idolo per me poi si è spostato al fantasy ma comunque anche la saga dei signori di anelli è un prodotto che io considero estremamente di qualità e che ho saputo apprezzare veramente tanto sospesi nel tempo poi un caltone che anche qua non è proprio horror però stiamo parlando di tematiche talmente raccapriccianti disturbanti che per me questo film rientra pienamente nel genere horror psicologico horror è horror è terribile cioè terribile nel senso che è un grandissimo film ma ciò che tratta veramente drammatico salò trasposizione del romanzo di the sad durante l'epoca fascista diciamo che la genialata di pasolini è stata proprio rivestire questo romanzo in un'epoca particolare che ha un significato particolare il film è estremo estremissimo è veramente tra i più estremi che possono esistere qua c'è la versione integrale blu ray cg entertainment molto carino anche l'interno tutto rosso è molto disturbante a livello psicologico ci sono anche scene gore ci sono scene schifide diciamo non ve le voglio dire se non avete visto il film guardatelo e sono sicuro che vi lascerà assegnati per sempre nella vita un capolavoro facciamo questi mi hanno mandato tre film di umberto lenzi uno è in realtà firmato henry hambert la casa 3 che è il seguito apocrifo della casa apocrifo perché non spesse significa falso falso seguito non è un vero seguito della casa poi vabbè un titolo alternativo ghost house è un film di case infestate veramente ben studiato anche se ci sono un po di scivolate trash qua e la cioè insomma ce ne sono di scivolate trash però è un film veramente ricco di idee brillanti sia effetti speciali e situazioni situazioni messi in scena veramente molto intelligenti effetti speciali anche lì ci sono delle trovate non male insomma è un film secondo me un cult assoluto anche se appunto un po trash c'è questo pagliaccio pazzo pagliaccio che sono sicuro che vediamo se riesco a inquadrarlo questo qua sono sicuro che sarà riuscito a terrorizzare generazioni incubo sulla città contaminata questo l'avevo rivisto da poco quindi non l'ho riguardato e la particolarità diciamo è che intanto questi zombie questa invasione di zombie che c'è nel film ha la diciamo la caratteristica di essere fatta da zombie molto frenetici molto sembrano più dei pazzi dei pazzi assassini in preda alla follia proprio isterici e poi c'è questa questo trucco un po spartano che è stato fatto sugli zombie che hanno praticamente della merda in faccia cioè proprio una roba sembra che abbiano la merda in faccia fondamentalmente che da un certo punto di vista può anche sembrare un errore qualcosa di grossolano in realtà secondo me ha un effetto eccezionale eccezionale cioè comunque alla fine a casa se la porta ed è un po' la grande capacità di tanti registi italiani cioè quella di con due o tre schifezzuole e trovate di questo genere riesce a portare a casa degli zombie che sono sì un po' strani ma anche forse proprio perché sono strani ti danno un senso di angoscia fanno paura secondo me anche questo film è un film imperfetto con tutte le sue cadute di stile diciamo ma è un caltone assoluto tra l'altro in questa situazione c'è anche un mini di plan con testo da leggere incubo sulla città contaminata umberto lenzi edizione restaurata hd ecco magari un'occhiata gliela do perché sono curioso di vedere la qualità spasmo sempre di umberto lenzi molto bella tra l'altro questa illustrazione che vabbè poi se vedete il film capite un po' i messaggi subliminali che dovrebbe trasmettere è più un giallo ma con scena di violenza comunque è un genere che a me piace il giallo e all'italiana perché sono violenti e ricchi di trovate idee interessanti questo è un giallo ben scritto insomma ti cattura è veramente un ottimo film un ottimo film con grandissime trovate abbiamo finito con umberto lenzi ragazzi sono tutti i film da riscoprire questi questi film qua questi gialli sono film che intanto molto coraggiosi perché buttano in campo un sacco di roba anche col coraggio di sbagliare insomma e poi alla fine c'è la sostanza ci sono idee c'è tanta roba veramente c'è c'è improvvisazione creatività amore proprio per il cinema quindi riscoprite i film e a tal proposito andiamo a prendere un classicissimo un super caltone incredibile che non avevo in collezione conosciuto da tutti non si servizia un peperino di Lucio Fulci un giallone thriller giallo veramente scritto da dio con anche delle situazioni e un modo di trattare l'erotismo veramente di un'intelligenza incredibile e con scene gore pazzesche è veramente un'opera che racchiude tanti generi nel cast troviamo Thomas Milliam che fa un personaggio infatti molto più vicino alla commedia troviamo Barbara Lusche che è qualcosa di fenomenale cioè una cosa incredibile la faccio vedere anche qua che così vi potete potete sbavare Barbara Lusche era una cosa illegale era illegale veramente un capolavoro assoluto un capolavoro assoluto da vedere assolutamente pieno pieno veramente di cose ma tutto gestito molto bene pieno di tematiche di generi tutto mescolato in un modo tutto torna tutto è perfetto film che sembrano imperfetti ad altri io per me questo è perfetto ultimo film horror si cazzo si è staccato ultimo film horror poi vi parlo di altri tre film che mi hanno inviato per insomma farmeli vedere ma non sono horror sono due thriller e una commedia drammatica uno è veramente un capolavoro parliamo di un altro capolavoro l'ultimo horror che mi sono fatto mandare da Cigente Rimetene La casa sperduta nel parco di Ruggero Deodato questo qua è un film eccezionale di Ruggero Deodato veramente un film eccezionale io oserei dire per me un film migliore di Cannibal Holocaust mi rendo conto che Cannibal Holocaust è un film innovativo con una trovata originalissima che ha aperto un genere che ha insomma un'importanza cinematografica non irrilevante ma in termini di film di qualità del film come scritto come diretto e tutta la confezione fatta e finita per me la casa sperduta nel parco è un film migliore di Cannibal Holocaust ovviamente Cannibal Holocaust è un film che adoro però questo è un film che amo molto di più che vede tra l'altro tra i suoi protagonisti vediamo se riesco proprio David S che è il protagonista dell'ultima casa sinistra un contesto completamente diverso e anche le motivazioni per cui avvengono delle azioni brutte insomma delle azioni brutali e succedono delle cose brutte succedono per ragioni ben diverse e qui è molto forte il contesto socio-politico dei personaggi quindi io lo amo tantissimo sul film David S è un attore inquietantissimo proprio probabilmente anche solo incontrando una metropolitana purtroppo è morto però era veramente una presenza inquietante ma poi tra l'altro è curioso perché molti nelle interviste lo dicono quindi è proprio personaggione diciamo comunque ho fatto questo grande film ve lo consiglio tantissimo non vi dico niente perché non c'è niente da dire cioè è tutta da scoprire la storia strepitoso strepitoso ultimi tre film un thrillerone allora questo non l'ho visto che è Hope Lost però devo dire che la copertina mi intriga molto non so perché mi intriga non so secondo voi perché mi intriga la copertina comunque vabbè c'è un codice a barre qua sulla patata quindi vuol dire che c'è di mezzo insomma no lo so in realtà c'è un discorso di prostituzione di schiavismo delle ragazze insomma una ragazza che finisce dentro questo giro e purtroppo viene costretta e dentro al cast c'è Misha Burton che dovreste conoscere Danny Trejo ma Danny Trejo penso che sia ovunque Danny Trejo è come è tipo dio è ogni presente in ogni film c'è Danny Trejo non so com'è il film ma sicuramente la copertina attrae attrae chi ha quei gusti lì poi ci saranno anche altre copertine tra altri gusti poi c'è questo film molto curioso che è The Bleeder spero di averlo pronunciato nel modo giusto una commedia drammatica che racconta la storia del vero Rocky cioè la vera persona da cui è stata tratta la storia poi di Rocky Balboa scritto da Silvestri Stallone il film di per sé non mi è arrivato totalmente perché ci sono delle cose a livello di regia che non mi sono piaciute molto però devo dire che è un film che mi ha incuriosito parecchio dall'inizio alla fine perché mi interessava sapere la storia che c'è dietro al personaggio di Rocky perché il personaggio di Rocky è veramente un personaggio molto positivo è un personaggio molto buono con dei valori molto forti mentre il personaggio originale da cui è tratto comunque non è un mostro però ha dei difetti e quindi è interessante come da appunto da un personaggio pieno di difetti poi venga poi estrapolato una sorta di mito come quello di Rocky se vi piace la saga dovete assolutamente vedere questo al di là del fatto che vi piaccia o meno il film perché comunque è interessante e curioso ultimo film di cui vi voglio parlare è un thrillerone ma un thriller un po' particolare perché è un thriller asiatico un bellissimo film stupendo un thriller con anche diversi aspetti di commedia eccetera dal regista di Old Boy non so dirvi bene il nome Park Chan-wok-wok Mademoiselle ci sono queste due protagoniste è un film eccezionale scritto benissimo girato benissimo contacultura giapponese si amate il mondo orientale vi piacerà e soprattutto c'è una gestione delle scene di erotismo che è qualcosa di strepitoso cioè veramente da sono veramente potenti funzionano funzionano alla grande e c'è un mega intrigo che vi tratterà molto molto bene per tutta la durata del film consigliatissimo Mademoiselle questi ultimi film non erano horror però insomma di horror ce n'è un bel po' vediamoli tutti insieme allora vi faccio vedere tutti gli horror che mi ha mandato CG Entertainment potete ritrovare sul loro sito sono 47 metri down Shadow, l'orca assassina, sospesi nel tempo salò, la casa 3 incubo sulla città contaminata la casa sperduta nel parco spasmo e non si servizia un paperino di Lucio Fulgi allora ragazzi questo è tutto per l'aggiornamento CG Entertainment trovate tutti questi film sul loro shop online se il video vi è piaciuto seguitemi sui vari social Facebook, Instagram, YouTube, Telegram insomma sul sito Viola dove di solito la gente fa i gameplay io invece faccio delle live sul cinema avete capito di quale sito parlo questo è tutto per questo aggiornamento ci vediamo al prossimo video ciao